Vi auguro la buona giornata con questo messaggio, Aurora. In questo momento stai volando alto e puoi rappresentare una minaccia per gli altri. Tuttavia ti prego di non scendere, perché presto gli altri si lasceranno ispirare dal tuo esempio. Le tue intenzioni hanno creato un trend di crescita nella tua vita. Nuove opportunità si affacciano all'orizzonte e sia il tuo sé interiore che quello esteriore riflettono questa crescita positiva. Il fatto che gli altri possono essere gelosi del tuo successo presente e futuro potrebbe crearti delle ansie e renderti suscettibile riguardo alla possibilità di parlare dei tuoi successi. Potresti essere preoccupato per il futuro. Domandarti dove ti porterà il nuovo percorso e desiderare pertanto una garanzia di successo. Sono qui per aiutarti a godere del presente e di questa nuova avventura. Abbi fede, ogni cosa si sistemerà. Dio si prende cura di te da sempre e continuerà a farlo per sempre. Chiedimi di aiutarti a rimanere focalizzato sul presente e di affrancarti dall'abitudine di essere preoccupato affinché tu possa godere di questi doni. La gratitudine è essenziale in questo momento per poter continuare a volare alto. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata. Grazie. Grazie.